Ehi, bella gente! Pietro Spataro è qui presente. Oggi, partita Atalanta-Juventus. Finita 0-0. Cosa dobbiamo dire a questa partita? Poca convinzione. Nel primo tempo la Juve ha giocato bene, se non vado errato. La Juventus era senza due punte. Mancava Minic e mancava Vlaovic. Ci ha un po' provato la Juve. Il primo tiro in porta con Fagioli, quando hanno battuto il calcio d'angolo. Poi tiro in porta di Moise Ken. Buona partita anche per Moise Ken. E pazienza. Poi nel secondo tempo, quel rimpallo fortuito di Chiesa. L'altro tiro in porta di Chiesa. Il terzo tiro in porta della Juve è quello di Chiesa, centrale, paramusso. Non è che può sempre portare alle spalle sempre Chiesa, guarda. Un calciatore non può fare mai miracoli. Poi, parliamo della punizione di Luis Muriel, guarda caso. Punizione perfetta, miracolo di Chiesa. L'ha tolta dall'incrocio dei pali, mandandola sulla traversa e poi di schiena l'ha mandata in angolo. Questa è stata fortuna, fortuna da parte della Juve. Questo punto se l'è meritato per me Chiesa. Per quella parata sulla punizione. Poi non parliamo del minuto 87, la papera di Chiesa. Poi il tiro decisivo di Koppmeiners che l'ha tirata fuori. E qua se l'è mangiato Koppmeiners. Che di qua si sapeva che finiva 0-0 la partita. Chiesa. Chiesa. Che dire? Per la punizione che ha fatto un miracolo. Sette. Dato che è stato graziato su quella papera gli è in basso un voto in meno. Sei e mezzo. Chiesa per me voto sei e mezzo. Chiesa. Sei. Diciamo sei. La difesa discreta è stata. Voto sei. Voto sei alla difesa come Danilo, Bremer e Rugani. E Gatti. Ah, stiramento di Gatti. Speriamo che non sia nulla di grave quando è entrato Rugani al minuto 83. Rabbio. Cinque. O cinque e mezzo. Quella bella giocata che ha conquistato un fallo al novantesimo. Locatelli. Lanci lunghi. A casaccio. Cinque. McKennie. Sei di stima. Cambiaso. Cinque e mezzo. Ken. Sei. Insieme a Chiesa. Subentrati. Wea. Senza voto. È entrato tardi a fine partita. Ah, dimenticavo di fagioli. Fagioli sei. L'accontento con una sufficienza. Subentrati ora. Ho detto Wea. Senza voto. Kostic. Che dire? Cinque e mezzo. Non è quel Kostic che conosciamo puro caso. Miretti. Non giudicato. Per me non giudicato Miretti. Rugani senza voto. E infine il Diz. Forse neanche un pallone ha toccato. Non giudicato. Ecco i voti. Ditemi la vostra qua sotto nei commenti. per me a parer mio è un pareggio d'oro di come è arrivato. Senza le due punte grazie. Forse se c'erano le due punte non so come andava a finire questa partita. Sarebbe stata una partita diversa. Ragazzi ora testa al derby contro il Torino il derby della Mole che si giocherà all'Allianz Stadium sempre fino alla fine. Vamos. Juve. Alla prossima. Iscrivetevi al canale. Iscrivetevi al canale.